salve a tutti parliamo in questa nuova puntata sul nostro canale youtube di un grande artista in questo caso uno scultore antonio canova non vi ti dirò parlandogli della sua vita di tutti i suoi particolari quant'altro ma faremo una lezione un po più divertente parlando in maniera episodica della sua vita con diciamo un po di aneddoti e diciamo i suoi grandi capolavori canova nasce nel 1757 a possagno e muore nel 1822 a venezia ma in questa lunga parentesi diciamo dalla nascita in veneto della morte in veneto la sua grande esperienza è quella romana dove si trasferisce e apre il suo studio in realtà la sua città natale possagno è molto ancora adesso legata a lui perché perché alla morte di canova suo fratello raduna tutti i gessi che erano stati utilizzati per la produzione delle sue sculture e li porta appunto in un edificio della casa natale di possagno dove il canova verso alla fine della sua vita aveva realizzato anche la grande basilica a forma del pantheon di roma quindi una città natale che veramente gode ancora oggi del nome del suo cittadino più illustre canova è figlio di scalpellini quindi di già il nonno e il padre erano personaggi che lavoravano il marmo lavoravano la pietra lui invece diventa un grandissimo artista fin da giovane lavora in bottega ma poi si specializza diciamo proprio a venezia canova forse tanti non lo sanno ma era un ottimo disegnatore e un ottimo pittore possiamo vedere per esempio il dipinto non so la sorpresa ecco che ci racconta di una venere una venere invece che essere classica una venere come modella di tutti i giorni quindi il canova pittore è fondamentale perché spesso le sculture nascono dal disegno e della pittura prima di addentrarci un po sulle sue sculture più importanti e famose raccontiamo un po come si realizza una scultura come realizza una scultura canova una scultura in marmo uno pensa che si prende un pezzo di marmo e si scolpisce fino arrivare alla superficie pulita della scultura niente di tutto questo canova grazie appunto ai suoi maestri non solo familiari ma anche i maestri di venezia adotta uno stile molto complesso una tecnica molto complessa innanzitutto si parte da dei disegni disegni che illustrano un po l'opera carboncino e matita e quant'altro da qui si inizia a realizzare un piccolo modello in gesso che da un po le dimensioni si da un po l'idea 3d della dal 2d del disegno al 3d della piccola scultura in gesso poi si realizza una figura in creta modellata la creta è molto facile da lavorare in scala 1 a 1 quindi se sono sculture piccole si può usare la creta e poi si ha già l'opera ma come vedremo canova realizza delle opere molto grandi e quindi per fare questi lavori in creta si utilizza un'anima in ferro in maniera che questa creta possa venire sostenuta dall'anima in ferro si modella tutta questa creta e a questo punto si ha un modello dell'opera finita ma solo modello in argilla si stende diciamo così un uno strato leggero di gesso rosso su questa forma e poi si crea una incamiciatura una camicia di gesso bianco a questo punto si ha un negativo di tutta la struttura in gesso bianco si rompe con perfezione questo gesso in molte valve si elimina tutta la creta interna grazie anche questo strato rosso che si era dato queste forme queste valve di gesso vengono ricongiunte e a questo punto si cola il gesso finale quindi dal negativo del gesso sia il positivo del gesso quindi una fase molto complessa una volta che si ottiene il positivo del gesso vengono messi tantissimi chiodini a delle distanze precise a quel punto grazie a dei compassi gli allievi collaboratori di canova misurando la distanza di questi chiodini sbozzano la forma di marmo solitamente marmo di carrara che ha il canova quindi il canova arriva all'opera che è completamente sbozzata mancano pochi millimetri all'opera finita quindi canova inizia a lavorare quando ormai l'opera è quasi completamente sbozzata dalla rifinitura dalla liciatura finale e l'opera è compiuta ecco perché lui può realizzare tantissime opere perché comunque tutte queste fasi di lavoro possono essere in parte affidate ai suoi collaboratori e lui lavorare solo alla parte finale e avere in questo caso un'opera finita completa vediamo un'immagine di canova che viene ritratto da giovanni ceccarini uno scultore che realizza quest'opera alla fine della carriera di canova 1817 1820 la realizza a roma quest'opera attualmente è visibile nel comune di frascati e vediamo che canova è scolpito completamente nudo solo con una toga su di lui quindi una nudità divina possiamo dire vediamo che ha in mano un martello e questo martello sostituisce lo scettro lo scettro di giove possiamo dire e sul suo fianco sul suo fianco destro compare un'erma di giove giove degli orticoli era una scultura apparteneva e appartene tuttora al vaticano questa statua di giove era finita insieme a tutto il bottino di guerra all'ouvre e proprio canova era stato incaricato dal papa di recuperare tutte le opere rubate proprio da napoleone quindi lui viene mitizzato con questa nudità viene diciamo così reso reale cioè un re in terra con questo scalpello martello che diventa il suo scettro e viene anche indicata questa sua professione di recupero delle opere fondamentali del vaticano che ritornano finalmente da parigi dopo la caduta di napoleone quindi un'idea mitizzata di questo autore vi racconto una curiosità che il nostro canova aveva un po' di problemi di capelli già quando aveva 30 anni così aveva pochissimi capelli era quasi calvo e possiamo vedere in questi ritratti che sono stati fatti che in alcune volte compare con questa calvizie e in alcune volte invece un po' così per ceglia diciamo così per migliorare il suo aspetto utilizza un toupet un parrucchino un parrucchino seguendo la moda francese dei primi anni dell'ottocento cioè un parrucchino con i capelli un po' tutti scomposti lo possiamo vedere per esempio in alcuni dipinti inglesi dell'ottocento dei primi dell'ottocento dove vediamo appunto questa capigliatura così moderna scelta proprio per rimanere alla moda questo è molto interessante dopo aver parlato della tecnica di canova e un po' del suo aspetto fisico parliamo di una delle opere fondamentali che tutti conoscono le tre grazie è un'opera eccezionale proprio perché anche la committenza era eccezionale diciamo che intorno al 1812 a governare su tutta l'europa è napoleone e a fianco di napoleone c'è l'imperatrice giosephine de borné e giosephine affida quest'opera le tre grazie proprio a canova all'inizio lui è un po' titubante dice non so se posso accontentare l'imperatrice ma è solo una scusa per prender tempo e realizzare il progetto vediamo che le tre grazie hanno una ispirazione classica se voi andate alla libreria piccolomini all'interno del duomo di siena potete vedere una di queste opere le tre grazie che intrecciano le loro mani ed è una scultura classica ma canova la rielabora completamente guardate gli intrecci delle braccia delle mani i movimenti questo velo il velo di pallade che copre solo in parte le nudità delle tre giovani che sembrano addirittura delle tre gemelle perché hanno i volti molto simili guardate la bellezza del dei capelli le acconciature dei capelli che sono curate nei minimi dettagli seguendo proprio la moda francese di quell'epoca ma qual è il motivo principale per cui quest'opera è rivoluzionaria ve lo racconto è la danza sì sì perché queste tre grazie stanno ballando nella scultura classica greca che poi è la scultura anche romana che è influenzata da quella greca la danza non era mai comparsa mentre nelle tre grazie questi personaggi hanno dei movimenti come delle attitud stanno veleggiando c'è un movimento di sospensione nell'aria qualcosa di veramente incredibile e nuovo che nella tradizione classica noi stiamo parlando appunto in questo video del neoclassicismo non c'era nella tradizione greca romana nessuno aveva mai danzato prima in una scultura le tre grazie hanno un successo enorme ma in realtà la josephine non ebbe modo di vedere l'opera finita ma non ci fu nessun problema il figlio eugène pagò l'autore nel 1817 e portò l'opera a monaco di baviera attualmente si trova invece a san pietroburgo quest'opera fondamentale se voi andate a possagno ne potete vedere per esempio la coppia in gesso che è stata danneggiata dalla prima guerra mondiale non dalla seconda dalla prima guerra mondiale e tramite laser tramite la scultura 3d è stata ricomposta le parti mancanti quindi un'opera veramente eccezionale stavamo parlando di danza ecco nella danza possiamo associare un'altra opera fondamentale che è l'ebe voi sapete tutti che ebe è figlia di zeus ed era ed è la coppiera degli dei a in questo incarico finché non viene detronizzata da ganimede il fanciullo di cui si innamora giove in forma d'aquila rimaniamo su ebe ebe offre l'ambrosia a tutti gli dei nella scultura che possiamo vedere che è stata realizzata nel tra il 1800 e il 1805 sempre per l'imperatrice josephine de borné in questo caso ebe veleggia su una nuvola anche qui non ha rappresentato ebe come una danzatrice ma comunque questa nuvola che su cui si appoggia su cui questi piedi si appoggiano danno un movimento in diagonale movimento molto fluido a questa scultura guardata di lato sembra quasi la nicche di samotraccia potremmo dire conservata sempre all'ouvre e quindi un movimento di leggerezza nella seconda versione invece che è conservata attualmente ai musei di san domenico di forlì la nuvola non è più presente come quasi se per l'imperatrice volesse creare un pezzo unico la scultura oltretutto in questo caso è dorata la parte della capigliatura in parte dorata un po' si è persa e poi possiede appunto la coppa e diciamo la brocca dell'ambrosia quindi ci sono anche degli elementi esterni in questo caso di bronzo dorato che diciamo così sono degli accessori e rendono questa scultura ancora più preziosa anche Thorvaldsen che è il rivale di Canova a Roma realizza sia un ebe che però vediamo che è molto molto più statica senza questi particolari di oggetti differenti dal marmo che identificano quella di Canova e realizza anche una coppia delle tre grazie sempre che hanno un movimento, un movimento coreutico ma di una freddezza glaciale vediamo che in Thorvaldsen l'utilizzo di questo velo di pallade che è quasi completamente caduto che diciamo fa vedere tutte le umidità non rende più quel gioco di vedo non vedo che è così interessante in Canova c'è una staticità maggiore, è vero che sembrano sempre in movimento ma non c'è quel movimento di danza che abbiamo visto in Canova quindi diciamo che questo suo rivale Thorvaldsen che per tutta la vita è considerato un secondo Fidia insieme a Canova i contemporanei vedevano in due quasi due personaggi allo stesso livello vediamo che invece il tempo ha fatto giustizia e ha dato più importanza a Canova che è Thorvaldsen che vi ricordo che è un autore danese che ha vissuto tra Copenaghen nato nel 1770 e morto sempre a Copenaghen nel 1844 che ha vissuto tantissimi anni a Roma creando una bottega molto importante e avendo commissioni come le ebbe Canova anche dai papi più importanti ritorniamo allora un momento ancora su Canova per una delle sue sculture più importanti Amore e Psiche realizza questa scultura tra il 1800 e il 1803 ce ne sono varie versioni quella che stiamo vedendo ci sono sia Amore e Psiche stanti in piedi che giocano con una farfalla innanzitutto il mito di Amore e Psiche è molto famoso viene da un passo, da un racconto nel racconto all'interno della metamorfosi di Apuleio dove vengono raccontate le peripezie di Psiche di Psiche si innamora Amore il quale però non deve far scoprire questa loro relazione allora si incontrano nottetempo per amarsi ma sempre al buio favoriti dal buio della notte ma dopo tanti incontri amorosi Psiche diventa curiosa e vuole sapere chi è il suo amante allora con una lampada ad olio prova a spiarne i lineamenti del volto ma una goccia rovente di olio cade sul corpo immacolato di Amore che lo risveglia e così iniziano tante peripezie per la povera Psiche vediamo che nell'opera di Canova si vede il loro amore l'amore primigenio sono due fanciulli tutte e due sono giovanissimi e stanno giocando con una farfalla qual è il motivo di questo elemento simbolico? la farfalla in greco si dice sempre Psiche Psiche rappresenta sia l'anima che rappresenta la farfalla che il nome della fanciulla probabilmente il nome di farfalla deriva dal fatto che si pensavano, i greci pensavano che l'anima di ognuno di noi fosse leggera proprio come una farfalla ecco perché c'è questo doppio significato della parola questo gioco è un gioco molto intimo rappresentato dal Canova qualcosa di veramente incredibile qualcosa, un gioco, un gioco di relazione un gioco di affetto e i due sono sospinti in questa relazione e ci appare un marmo levigato precisissimo ma non freddo assolutamente perché il gioco di relazione è molto ben espresso Canova realizza anche quattro versioni della Venere pudica quella che si copre il seno e il sesso e in queste versioni evolve un po' quella che era appunto l'immagine anche di Venere Callipigia, la Venere dalle belle natiche e abbiamo parlato prima di un dipinto di Canova lo possiamo rivedere, il dipinto La sorpresa che rappresenta una giovane donna che si copre sembra appena alzata da letto e si copre in nudità quindi da questo dipinto del Canova si passa a una scultura invece più classica una scultura più diciamo così pomposa più decorativa meno intima rispetto al dipinto e anche in questo caso la Venere si copre in una relazione tra visto e non visto che interessava molto gli acquirenti di Canova lo studio di Canova a Roma era un must per tutti quelli che facevano il Grand Tour tedeschi, inglesi, francesi avevano come meta del Grand Tour la bella Italia, il bel paese le mete privilegiate erano Venezia, Firenze, Roma e poi chi poteva permetterselo arrivava fino a Roma e la recentemente scoperta Pompei Pompei proprio in quegli anni veniva scoperta viene visitata per esempio nel 1770-71 anche da Mozart che è in viaggio in Italia ecco perché è il famoso detto vedi Napoli e poi muori perché aver visto Napoli e voleva dire aver compiuto il viaggio di una vita il viaggio che poi veniva arricchito con gli acquisti noi oggi acquistiamo le cartoline o facciamo un selfie all'epoca si comprava a Venezia un quadro del Canaletto del Bellotto e si portava a casa un bellissimo ricordo di Venezia o quando si era a Roma come nel caso del Canova si acquistava un dipinto del Panini con una rappresentazione archeologica della città o una stampa di Piranesi che lavora sempre in quegli anni quindi un mondo quello del Canova molto articolato molto completo che gli vale sicuramente l'ammirazione di tantissimi tra cui appunto il Papa il Papa gli impone il Papa Clemente XIV la realizzazione del suo monumento funebre che si può vedere tutt'oggi nella chiesa di Santi Apostoli a Roma la chiesa, la parrocchia di Michelangelo per farvi solo un nome e quindi le commissioni papali poi diventavano uno specchietto perché poi tutti i grandi tra cui abbiamo parlato più volte dell'imperatrice la moglie di Napoleone I chiede a lui alcune sculture fondamentali ma anche la seconda moglie di Napoleone Maria Luigia di Parma ancora adesso molto amata dagli abitanti di Parma gli chiede la sua scultura lei deve essere rappresentata come la Concordia possiamo vedere un modellino dell'opera del Canova oppure l'opera completa alta più grande del normale deificata diventa proprio la grande Concordia con una patera con un grande scettro vestita come una divinità e quindi si vede che le committenze imperiali sono per lui molto importanti realizza molti ritratti tra cui anche quello di Napoleone stesso e uno se ne può trovare in un rifacimento successivo in bronzo nel cortile della Pinacoteca Ambrosiana come appare lì Napoleone? appare come Marte pacificatore Marte quindi un guerriero lui aveva messo a ferro a fuoco tutta l'Europa ma a questo punto nella scultura lui era presentato nudo con ormai la spada la daga appoggiate a un tronco ormai non gli serve più e in mano tiene la vittoria alata quindi Marte ha combattuto e adesso ha messo pace nell'Europa Napoleone non apprezzava moltissimo questa scultura proprio perché lo vedeva completamente nudo in questa nudità deificata e la statua verrà fusa in bronzo e messa nel cortile di Brera solo in anni successivi alla caduta nel 1814 dell'impero napoleonico una carriera eccezionale dove lavora con i massimi sistemi abbiamo capito che il suo sistema di lavorazione gli permetteva di avere più sculture in essere contemporaneamente il suo studio abbiamo detto che era visitato da tutti i grandi del Grand Tour che vedevano nel suo studio una specie di negozio dove poter acquistare gli originali dove si poteva acquistare delle copie magari fatte da degli originali oppure logicamente si poteva semplicemente ammirare la merce esposta come si può andare in un museo per fortuna tutti i gessi sono stati salvati quasi tutti sono stati salvati e portati a possagno dal fratello che ha reso appunto questa cittadina onori al suo figlio più illustre abbiamo visto quindi che Canova è un maestro dell'arte neoclassica suo nemico diciamo e amico è Thorvaldsen che però non riesce mai a superarlo almeno a mio giudizio non lo supererà mai perché Thorvaldsen è molto più gelido e freddo ma ci sono molti altri autori che poi proseguiranno la sua opera per esempio Ceccarini ecco o Sergel o altri autori che proseguono appunto l'attività scultoria proprio in quegli anni spesso sviluppata nei sepolcri nei grandi cimiteri non ci si seppelliva più nelle chiese grazie all'edito di Saint Claude di Napoleone e quindi vengono aperti i primi cimiteri monumentali pensate proprio a quell'epoca Ugo Foscolo che ci lascia l'opera I sepolcri quindi la scultura in Italia ha un grandissimo sviluppo possiamo dire che poi verrà portata fino al Liberty al Deco e abbiamo la fortuna in Italia di avere tantissimi cimiteri monumentali con delle bellissime sculture tutte da visitare l'eredità di Canova prosegue appunto fine ai giorni nostri perché è un autentico rivoluzionario un Veneto un Veneziano un Romano ha girato tutta l'Europa quindi un uomo veramente cosmopolita che si può trovare appunto adesso nei grandi musei di tutto il mondo e primo fra quali il Museo di San Pietroburgo che ospita diciamo un po' i suoi più grandi capolavori grazie e alla prossima lezione con noi a presto